Ernando sarà il protagonista in discusso delle prossime puntate del Segreto. Lo vedremo infatti al centro di situazioni molto particolari. Ma cosa accadrà a Beatrice? Cosa le riserve il destino? La vedremo intanto entrare nelle grazie di Aquilino, ma sarà solo uno stratagemma per far ingelosire Mattias, ma la vicenda non durerà molto, e Aquilino perderà il controllo. Mattias salverà la ragazza, ma verrà colpito con una bottiglia d'Aquilino. Gli animi saranno però calmati da Marcella che interverrà armata. Beatrice farà quindi rientro all'Osmanentieles, cercando però di nascondere la sua paura. Ma questa vicenda non resterà a lungo un segreto per Ernando che, venuto a conoscenza dell'accaduto da Nicolás, andrà su tutte le furie e si precipiterà da Aquilino urlandogli contro. Come andrà a finire? Lo scopriremo presto. Se il segreto ti appassiona, metti un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perdere le nostre migliori anticipazioni.